Buongiorno a tutti, bentornati a Caffè. Oggi proseguiamo con la seconda lezione, quindi questo è il secondo incontro, sull'età del positivismo. In particolare ci concentriamo su Ippolitain, su Charles Robert Darwin e su Emile Zola. Quindi andremo avanti ad approfondire, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista scientifico e letterario, la nostra trattazione su questo importantissimo movimento culturale, filosofico e poi anche artistico e letterario. Iniziamo proprio con Ippolitain che nel 1865 scrisse la filosofia dell'arte ed è importante perché fu proprio lui il primo ad utilizzare il termine naturalismo, parlando di questo nuovo movimento culturale e letterario in un saggio che lui dedicò a Honoré de Balzac nel 1858. Egli adotta il termine dalla biologia ed è importante perché secondo Thun l'opera artistica è il prodotto delle condizioni ambientali, sociali, economiche e geografiche di un dato momento storico. Quindi l'opera artistica, il romanzo, perché diventerà quella l'opera più importante, il mezzo attraverso cui rappresentare la realtà, diventa un esperimento scientifico e l'autore si fa scienziato. Però è proprio quello il suo esperimento scientifico, il romanzo, ed è il risultato di tutte queste condizioni che abbiamo appena detto. Quindi se cambiano le condizioni cambia anche il tipo di romanzo che verrà scritto perché si parlerà di tutt'altro. La letteratura può osservare e raccontare la psicologia umana con la stessa sistematicità e oggettività, con lo stesso rigore e metodo che appartengono alla scienza. Quindi in letteratura si procede esattamente come lo scienziato e infatti lo scrittore diventa scienziato e il romanzo diventa il suo esperimento scientifico. Quindi l'autore assume lo stesso atteggiamento e lo stesso punto di vista dello scienziato, si deve limitare ad osservare e a raccontare quello che succede, quindi come si comportano le persone, perché agiscono in un certo modo e quindi voi avete già capito che secondo questi autori esistono poi delle leggi meccaniche, scientifiche e quindi rigorose che spiegano tutti i comportamenti e i processi umani perché altrimenti non servirebbe a niente studiare l'uomo in tal senso. Quindi il determinismo e il metodo sperimentale influenzano la letteratura in modo decisivo perché determinismo significa che io sono determinato, regolato da alcuni impulsi, da alcuni stimoli che io ho e che non posso fare a meno di provare e in base a quelli io mi comporto in un certo modo. Quindi provate già a pensare anche al concetto di libertà che noi abbiamo in mente. Siamo davvero liberi? Assolutamente no. Che cosa dice addirittura, va più a fondo nella filosofia dell'arte? Ci dice che i comportamenti e le scelte individuali sono il frutto di tre fattori fondamentali, la race, il milieu e il moment. Race sarebbe il fattore ereditario, quello che noi chiamiamo come tratti genetici, tratto carattere o tratto ereditario, genetico. Il milieu è l'ambiente e il moment è il momento storico. È chiaro che io sono il frutto di questi tre fattori fondamentali, cioè il mio comportamento, la mia identità dipendono dai fattori ereditari, quindi proprio dalla famiglia, dall'ambiente familiare in cui sono nato e in cui vivo, quindi dal gruppo in cui mi trovo, dal periodo storico in cui io nasco e soprattutto dall'ambiente, dalla società in cui è inserita la mia famiglia. Cambiando questi tre fattori io sarei completamente una persona diversa, sarei totalmente differente e quindi è evidente l'influsso del determinismo. Tutti i fenomeni sono prodotti da cause precise per l'uomo soprattutto valgono questi tre elementi fondamentali che poi ritroveremo in tutti i romanzi che analizzeremo in particolare nel ciclo dei Rougon-Maccart di Emile Zola per esempio, quindi se nasco in un certo ambiente e in un certo momento mi comporterò in un certo modo ma soprattutto avrò determinati valori, determinati pensieri, quindi è straordinario quanto ciascuno di noi in realtà non sia il frutto esclusivamente di scelte personali ma di come in realtà sia influenzato totalmente dal periodo e dalle persone che lo circondano. Pertanto l'uomo non è realmente libero come potremmo pensare perché i suoi comportamenti sono determinati da precisi bisogni, il suo agire quindi è condizionato dal periodo in cui vive, dai fattori genetici, dalla società in cui si trova. Che cosa aggiunge Emile Durkheim? È la coscienza collettiva a determinare le azioni dei singoli individui, pertanto è l'individuo a essere generato dalla società, non viceversa, quindi la mia identità non la costruisco io ma è costruita dalla società in cui io vivo, cioè sono gli altri che mi riconoscono un'identità, se io vivessi da solo non avrei identità perché nessuno me la riconosce, chi sono io nella società, un insegnante, un avvocato, un uomo, una donna, dipende sempre dagli altri, sono gli altri a determinarla, non sono io che determino gli altri, è la coscienza collettiva, quindi qua ci fa già capire che se siamo regolati da tutta una serie di leggi meccaniche in realtà dobbiamo ubbidire ad esse, a questi impulsi, a questi bisogni, quindi non siamo liberi ma siamo condizionati. Adesso arriviamo più nello specifico alle correnti letterarie che ci interessano, ovviamente partendo dalla Francia non possiamo non parlare del naturalismo, che cos'è in realtà il naturalismo francese? Il modo con cui la letteratura conduce un'indagine scientifica sull'uomo stesso, è proprio un modo, un metodo di indagine, un mezzo per capire la realtà e lo posso fare perché sono convinto che esistano delle leggi, dei fattori, cioè la rasse, il milieu e il moment, che regolano l'andamento della società e il comportamento individuale. Se non pensassi ciò, se fossi convinto che non esistano leggi specifiche, non servirebbe a niente analizzare la realtà come uno scienziato, perché se non ci sono le regole non avrebbe alcun senso. Quindi i naturalisti francesi poi identificano nel romanzo la strada per tentare questa ricerca. E qual è il fine ultimo del romanzo? Cioè perché scrivo libri per indagare scientificamente la psicologia e le relazioni umane, cioè devo capire e studiare l'uomo, il suo agire, perché poi posso intervenire e modificarlo, posso migliorare le sue condizioni e il benessere psicofisico delle persone. Quindi anche qui abbiamo quell'accezione positiva in contrasto con il negativo, la stessa di cui ci parlava Auguste Comte. Quindi il fine ultimo della scienza, in questo caso della letteratura, è sempre quello di denunciare ciò che non funziona affinché poi la politica possa intervenire e modificare per migliorare la realtà e la vita delle persone. Quindi c'è sempre un'accezione positiva, cosa che poi invece scomparirà con il verismo. Quindi quando arriviamo in Italia, la situazione è diversa, non c'è questa accezione positiva, cioè l'ottimismo svanisce e scompare. Nel romanzo sperimentale di Emile Zola, che non è un romanzo, attenti bene, è un saggio scritto nel 1880, l'autore fissa i criteri dell'arte naturalista, quindi è un saggio molto importante. All'interno, se voi lo leggete, troverete questi due punti importanti. Il naturalismo ha come pilastri fondamentali l'oggettività e l'impersonalità. L'oggettività è l'adesione totale alla realtà. Devo rappresentare soltanto ciò che posso percepire con i cinque sensi, nient'altro. Quello che vedo, ciò che è, perché è dato, è posto e quindi posso studiarlo con lo stesso rigore scientifico dello scienziato, l'abbiamo già detto. Quindi non ci sono più maghi, streghe, magia oppure teologia o se volete metafisica, tutto ciò che esula dalla realtà, i fantasmi, queste false credenze che al massimo, se ci sono, diventano il frutto di una mente malata, diventano cioè il prodotto di un pazzo, di un folle e lì però sfociamo ovviamente nella pazzia, nell'irrazionalità, ma è un'altra cosa, quindi diventa lo studio di una malattia. L'altro perno è invece l'impersonalità, cioè cosa significa essere impersonali? L'autore deve sparire dal testo, regredisce, è la tecnica della regressione, cioè si deve fare da parte e sparire. Il commento soggettivo dell'autore viene meno, l'opera deve sembrare essersi fatta da sé, come dirà anche Verga. Verga aggiunge anche un'altra cosa, devo capire un personaggio da come si soffia il naso, quindi devo veramente solo studiarne il comportamento, le parole, i pensieri e basta, non ci deve più essere l'intervento dell'autore che mi commenta quel personaggio o quell'agire specifico. Pensate al Don Abbondio nei Promessi Sposi, è vero che lui dà i calci, i ciotoli, quindi lì io capisco che lui è una persona che schiva sempre, se possibile, le rogne, i problemi, insomma non vuole avere nessuna bega con nessuno, non vuole avere a che fare con nessuno, vuole essere tranquillo e vivere in pace. Però c'è sempre l'intervento dell'autore, perché Manzoni interviene spesso, ci dice per esempio non era nato con un cuore di leone, quindi interviene. Qui non deve più farlo, non deve più esistere, perché quando lo scienziato studia un esperimento scientifico non deve commentare con osservazioni personali, deve limitarsi a dire ciò che è o ciò che non è. Quindi vi faccio notare quanto il legame tra l'arte e la scienza sia strettissimo, davvero importante. L'autore deve essere freddo e distaccato come lo scienziato in laboratorio e l'arte assume questa funzione importantissima in chiave antiromantica, perché prende le distanze dal principio di bellezza e di moralità. Cioè adesso devo descrivere, analizzare tutto, anche gli aspetti più crudi, più riprovevoli, anche ciò che prima sembrava scomodo, brutto, poco adatto ad entrare nel romanzo. Quindi adesso tutto è poetabile, tutto diventa scrivibile, quindi può essere inserito a pieno diritto all'interno del romanzo. E questo è importantissimo ragazzi, perché significa che ora io posso parlare di qualsiasi cosa, non ci sono più limiti. Ricordatevi sempre la prefazione di Germinilla e Sartre dei fratelli del Goncourt, questo romanzo viene dalla strada. Non siamo abituati a certi argomenti, a certe tematiche, ma devono entrare perché ora lo scienziato si occupa di tutto. E il narratore non si pone perciò fini etici o estetici. Non devo analizzare solo il bello e soprattutto non ho più un fine morale particolare, devo osservare tutto. Come fa lo scienziato? Il metodo è quello dal semplice al complesso, perché è il modo migliore per capire la realtà. Parto da un problema semplice oppure se è complesso lo scompongo nei suoi elementi più semplici, proprio per arrivare a comprenderlo, perché se non c'è comprensione non posso poi intervenire nella realtà. Il modo migliore è quello del romanzo e chiaramente il ciclo di romanzi. Pensiamo appunto ai Rougon McCart di Emile Zola. Studiando tutti i vari membri di una famiglia e discendenti capisco veramente bene come funzionano questi meccanismi di race, milieu e moment. Cosa scrive proprio Emile Zola nel suo romanzo sperimentale, adesso ci addentriamo un po' nello specifico all'interno del testo, e ci dice noi scrittori naturalisti sottoponiamo ogni fatto all'osservazione e all'esperimento, mentre gli scrittori idealisti ammettono forze misteriose che sfuggono all'investigazione e perciò restano ignote al di fuori delle leggi della natura. Quindi noi ci dobbiamo sempre limitare all'osservazione e all'esperimento. Non dobbiamo più occuparci di tutto ciò che esula da questo, di queste forze misteriose di cui non so nulla, che non posso quindi investigare. Chiamo idealisti quelli che si rifugiano nell'ignoto per il piacere di esservi, che hanno interesse solamente per le ipotesi più fantasiose, ma che non sono poi suffragate dai fatti, che essi rifiutano di sottoporre alla verifica dell'esperimento con la pretesa di possedere essi stessi e non le cose la verità. Quindi viene ribaltata proprio la prospettiva, l'impianto di studio strutturale capovolto. Non ho più quelle certezze granitiche di prima, le devo ricercare nei fatti, non devo adattare i fatti alla mia verità, è l'esatto contrario. La loro opera è, lo ripeto, inutile e nociva, mentre l'osservatore e lo sperimentatore sono i soli a lavorare per la potenza e la felicità dell'uomo. Eccola qui, la chiave positiva, devo migliorare la condizione di vita dell'uomo, rendendolo a poco a poco padrone della natura. Ecco perché studio la realtà, perché il fine ultimo è dominarla e piegarla al mio volere, nient'altro. Non vi è grandezza né dignità né bellezza né moralità del non conoscere né inventare falsità, nel pretendere che si è tanto più grandi quanto più si cresce nell'errore, nella confusione, cioè non ha senso rimanere ancorati ad una falsa verità. Le sole opere grandi e morali sono le opere veritiere, attenti a non fare l'errore, a non cadere nel solito errore degli studenti. Un romanzo realista non significa un romanzo che parla della realtà, perché tutti parlano della realtà. Anche Harry Potter parla delle persone e dei sentimenti umani. Anche voglio dire i romanzi gotici parlano di realtà, quelli fantastici o di fantascienza. Qual è la discriminante? L'oggettività e l'impersonalità. Rappresento solo ciò che vedo, che è dato e che è posto. Questa è la differenza. Non siamo né chimici né fisici né fisiologi, ma siamo romanzieri che si avvalgono della scienza. Quindi usiamo lo stesso metodo. Non abbiamo la pretesa di fare delle scoperte in fisiologia, che dal resto non pratichiamo, ma solamente prima di studiare l'uomo. Crediamo di non poterci esimere dal tener conto delle recenti scoperte della fisiologia. Non posso più escludere, non posso più ignorare le nuove scoperte, i nuovi metodi. Perciò siamo stati spinti ad applicare al nostro lavoro il metodo sperimentale dal momento in cui esso è divenuto lo strumento di ricerca più efficace. Mi sembra che non ci sia niente da aggiungere. Ed è interessante l'ultima parte che vi propongo che ho scelto. L'uomo metafisico è morto. Qui sembra davvero di sentir parlare Nietzsche quando dirà Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso. Noi qui invece uccidiamo l'uomo metafisico ed il nostro terreno si trasforma interamente nell'uomo fisiologico. La physis dal greco è la natura, quindi l'uomo che si basa sulla natura naturale. Indubbiamente l'ira di Achille, l'amore di Didone, sono rappresentazioni eternamente belle. Ma ora dobbiamo analizzare l'ira e l'amore e vedere propriamente come funzionano queste passioni nell'uomo. Il punto di vista è nuovo ed è sperimentale invece che filosofico. Vi ho detto hanno ribaltato la prospettiva. In sostanza tutto si riassume in questo grande fatto. Il metodo sperimentale nelle lettere come nelle scienze si avvia a determinare i fenomeni naturali individuali e sociali di cui la metafisica non aveva dato fino a questo punto che spiegazioni razionali e soprannaturali. Mi sembra davvero chiarissimo e lampante. L'uomo metafisico è morto. Noi non ci occupiamo più di ciò che va oltre l'umano, ciò che trascende il punto di vista della scienza, della materialità. Dobbiamo limitarci a ciò che è osservabile. Per tutto il resto bisogna sospendere il giudizio. Non posso dire né sì né no. Semplicemente assumo questo atteggiamento agnostico, cioè agnoscere, non conoscere, non lo so e quindi non mi esprimo. Interessante perché cita Achille Didone, quindi cita anche il mito, la mitologia, sono, dice, davvero delle rappresentazioni bellissime, no? Queste sono forme d'arte eccelse, ma noi non ce ne occupiamo più. Il nostro romanzo viene dalla strada. Infine chiudiamo con un altro elemento molto importante che è la nascita dell'evoluzionismo perché ora parleremo proprio del biologo e naturalista inglese Charles Robert Darwin che nel suo libro L'origine della specie del 59 e poi nell'origine dell'uomo del 71 inserisce tutte le sue riflessioni, le sue osservazioni, i suoi studi e che cosa inizia a formulare la teoria dell'evoluzione. E su che cosa si basa? Beh, molto semplice, osservando le specie animali e vegetali lui arriva a due ipotesi che le specie si evolvono mutando nel tempo, quindi se all'inizio sono in un certo modo nel tempo poi assumono caratteristiche diverse, quindi si modificano nel tempo e che l'evoluzione avviene attraverso una selezione naturale di questi organismi e viene determinata dal loro adattamento all'ambiente, cioè in base a dove vivono si sviluppano delle modifiche, dei cambiamenti e chi è che sopravvive? Ovviamente quello che si adatta meglio al nuovo ambiente perché ha sviluppato delle modifiche genetiche e fisiche migliori ed è una selezione naturale, quindi qui in realtà la teologia, il cristianesimo, la religione dice non c'entrano assolutamente niente, quindi quali sono le conclusioni da trarre? Che le specie si modificano per variazioni casuali che si producono negli individui, è tutto frutto del caso, non di un dio artefice o semplicemente di un demiurgo che interviene, che modifica e plasma la realtà, le specie sono impegnate nella lotta per la vita, quella che Charles Darwin chiama struggle for life e chi sopravvive? Solo il più adatto, cioè quegli individui che sono dotati di caratteristiche favorevoli alla sopravvivenza in quelle specifiche situazioni ambientali e questi che si adattano poi trasmettono le loro caratteristiche ai loro discendenti e così garantiscono la specie, chi non trasmette queste caratteristiche perché non le sviluppa è destinato a scomparire e quel tipo di specie poi si estingue, quindi scompare definitivamente ma non c'è nessuno dall'esterno che interviene, non c'è un disegno finalistico, non c'è un fine ultimo, non c'è uno scopo, è tutto frutto del caso e di queste mutazioni genetiche che si verificano semplicemente, casualmente, senza nessun altro motivo specifico, quindi è il caso, non l'ambiente che determina le variazioni, però poi è l'ambiente che seleziona ovviamente gli adattamenti e le modifiche più o meno vantaggiose e quindi favorisce l'individuo che ne è portatore, chi ha sviluppato determinati cambiamenti se cambia l'ambiente sopravvive, altrimenti no, mi sembra logico e la specie umana è risultato della stessa identica selezione naturale, però è chiaro che questa teoria di Darwin rifiuta il creazionismo, mi sembra evidente, non c'è nessun Dio che ci ha creati in questo modo o in altri modi, il secondo punto secondo me ancora più interessante rifiuta la concezione di un universo creato intorno all'uomo, cioè è il rifiuto totale dell'antropocentrismo ragazzi, l'uomo non è più il principe di tutta la creazione, quell'uomo tanto esaltato per esempio nell'umanesimo, nel rinascimento, ecco l'uomo non è più al centro dell'universo, già con Galileo questa teoria era stata incrinata e messa in crisi, è ovvio, però adesso arriva proprio alla conclusione definitiva, mi sembra proprio evidente, però è interessante perché poi questi metodi delle scienze naturali vengono applicati anche ad altre discipline, abbiamo detto a tutti i campi del sapere e ne nascono anche di nuove, definite scienze sociali e quali sono queste nuove discipline? La sociologia che abbiamo detto essere la scienza della società perché studia proprio l'uomo, la statistica e la psicologia, quindi vedete come grazie a questa nuova prospettiva poi sia stato possibile aprire il sapere anche a nuovi campi come ci siamo evoluti anche dal punto di vista culturale perché abbiamo aperto nuove prospettive e nuove indagini di diverso tipo e quindi sono molto importanti anche queste. E ora arriviamo a un altro autore interessante che ho inserito così a passant perché mi sembrava molto interessante perché si collega anche con il percorso di educazione civica che faremo e riguarda Herbert Spencer vissuto tra il 1820 e il 1903. È interessante perché lui sviluppa una teoria generale che considera ogni disciplina del sapere quindi tutte quelle che abbiamo già citato soggetta all'evoluzione quindi non solo le specie umane si evolvono ma si evolvono addirittura le discipline umane perché più noi studiamo più cambiamo i nostri contenuti le nostre conoscenze quindi anche la disciplina stessa si evolve anche la storia dell'umanità si è interessata da questo progresso evoluzionistico e procede sempre dal semplice al complesso. Scusate l'errore non me ne ero accorto l'ho visto adesso però è ovvio lì scritto al complesso. Da una società primitiva molto semplice poi ci siamo evoluti via via sempre di più verso una società complessa e sempre più articolata più difficile anche da comprendere. Quindi quello che Spencer elabora è il darwinismo sociale. Cosa significa questa espressione perché la troverete spesso? Significa semplicemente applicare alla società il principio della teoria di darwin cioè il principio dell'evoluzione e della selezione naturale significa cioè che tutti gli uomini all'interno delle società si evolvono sempre di più e alcune società sono più potenti più forti di altre quindi si impongono sulle altre pensiamo anche solo dal punto di di vista prettamente linguistico quando una società è forte dal punto di vista politico economico impone anche la sua lingua. Pensiamo oggi all'inglese magari in futuro potrebbe essere il cinese per esempio. Quindi nei sistemi sociali complessi sono gli individui più specializzati quelli che si affermano e ovviamente qui parliamo anche di soprafazione perché nella lotta per la vita per la sopravvivenza è chiaro che il più forte domina sul più debole e si impone su di esso quindi parliamo anche di violenza di aggressività però ecco secondo Spencer il cambiamento è progresso solo se si permette la libera concorrenza tra gli individui. Attenzione perché all'interno della stessa società quindi deve valere per il laissez faire. Cosa significa? Lasciar fare è la teoria del liberismo e il liberismo è l'aspetto economico del liberalismo di cui parla Adam Smith cioè lo Stato non deve assolutamente intervenire nell'economia deve lasciare gli uomini liberi di agire come meglio credono quindi questo darwinismo sociale viene applicato addirittura al settore economico non solo a quello dei gruppi sociali ma anche dei singoli individui devo essere libero di concorrere perché chi è più bravo, chi è più scaltro oppure semplicemente chi è più ricco e ha più liquidità, più capitali sicuramente si imporrà sul più debole quindi potete capire che tutto questo discorso che noi stiamo facendo non è soltanto teorico ma poi ha delle applicazioni pratiche notevoli, concrete, qui stiamo già parlando di teorie economiche, di politica e soprattutto adesso arriviamo anche al razzismo e al colonialismo chiaramente perché applicare questo darwinismo sociale anche alle varie società umane significa che può diventare legittimo e necessario il trionfo dei forti sui deboli, delle aristocrazie sulle masse e soprattutto dell'occidente civilizzato su quelli che venivano chiamati e definiti selvaggi perché sono inferiori e perché sono inferiori perché sono più arretrati e soprattutto perché non sono ancora progrediti, sono rimasti indietro quindi l'uomo bianco in particolare il wasp, quel white anglo-saxon protestant person quindi quella persona anglo-sassone bianca e protestante che arriverà appunto in america si sentirà giustificato nel sottomettere e nello spadroneggiare su tutte le altre popolazioni che poi appunto subiranno quelle determinate angherie da parte dell'uomo occidentale, naturalmente non riguarda solo gli anglo-sassoni ma anche molti altri popoli, infatti qui ho scritto occidente in senso generale però parleremo anche dell'uomo wasp, quindi di quello che vi ho detto prima, i concetti quindi di lotta per l'esistenza e sopravvivenza del più adatto vengono estesi a tutti i campi ma anche alle relazioni fra classi sociali e poi anche tra popoli, sia l'individuo sia il gruppo sociale sia ai vari popoli, quindi è ovvio, inevitabile che questo poi generò movimenti antidemocratici, colonialisti e anche razzisti naturalmente, è la conseguenza logica inevitabile, l'evoluzione e il progresso diventano i parametri per valutare la superiorità o l'inferiorità di un popolo, perché le popolazioni precolombiane e poi ovviamente gli schiavi neri dell'Africa sono inferiori, perché erano meno evoluti, meno progrediti rispetto agli altri popoli, quelli occidentali e quindi erano falsamente legittimati a pensare di essere superiori, perché viene applicata questa teoria anche alle persone e quindi vedete come abbia un aspetto pratico davvero notevole e importante, però su questo argomento poi torneremo ancora, perché poi inizieremo anche a trattare, faremo una serie di incontri proprio sul razzismo in Occidente, in Europa, quindi parleremo veramente a fondo anche dell'antisemitismo, quindi non anticipo nulla. Riassumendo, quindi abbiamo visto che per Comte è positiva la fase della storia dell'umanità che è fondata sull'applicazione del metodo sperimentale a tutti i campi del sapere. Darwin invece formula la teoria scientifica dell'evoluzionismo, le variazioni casuali sono basate sulla selezione naturale. Ten ci dice che i comportamenti e le scelte individuali dipendano da tre fattori, la rasse, il milieu e il moment, e quindi il fattore ereditario, l'ambiente e il momento storico diventano essenziali per comprendere i comportamenti dell'uomo. E infine Emil Durkheim che ci dice che la coscienza collettiva determina le azioni dei singoli, non viceversa, l'individuo è generato dalla società. Io spero che anche questa lezione vi possa essere utile, vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale e come sempre io vi aspetto alla prossima lezione. A presto, buona giornata a tutti!